Ciao e benvenuto in Camperis! Nel video di oggi vediamo un mansardato per 4 persone di casa Elnag, il Baron 26. L'Elnag Baron 26 è alto 3,20 m, largo 2,35 m e lungo 6,99 m. Mansardato entry level, l'Elnag Baron 26 è pensato per soddisfare le esigenze della famiglia o dell'equipaggio numeroso, grazie alla disponibilità di 6 posti letto, il tutto in una lunghezza contenuta entro i 7 metri. Vediamo le principali caratteristiche di questo veicolo. Dinetti in grado di ospitare fino a 5 persone, cucina lineare con frigo trivalente da 142 litri, bagno compatto con doccia separabile, un letto matrimoniale trasversale in coda, un letto matrimoniale nella mansarda, due ulteriori posti letto ottenibili in dinette e tanto spazio per lo stivaggio, sia nell'abitacolo che nel baule posteriore. Prima di continuare con una descrizione più dettagliata, non dimenticate di seguirci sui nostri profili social per rimanere aggiornato con tutte le ultime novità del mondo Camperis. Il 2020 della storica casa italiana è all'insegna di un completo rinnovamento della propria gamma di profilati e mansardati di primo accesso, i Baron. Questi veicoli si presentano completamente entri definiti, evidenziando il salto di qualità al fine di posizionare gli entry level Elnag ad un livello decisamente superiore rispetto alla vecchia gamma. Nella zona giorno di questo mansardato puoi trovare una dinette accogliente e luminosa, composta da un tavolo ancorato alla parete di sinistra e due ampi divani contrapposti. In dinette puoi trovare numerosi vani per lo stivaggio, tra cui pensili sopra la dinette ed un armadio a tutta altezza di fianco all'entrata. La cucina è lineare e si trova di fianco alla porta di uscita. È composta da tre fuochi con copertura a flangi fiamme, un lavello in acciaio inox a vasca circolare, pensili e ampi vanni e cassetti per le stoviglie con porta posate e divisori interi. Di fianco ai fornelli è presente un frigorifero da 142 litri con uno scomparto freezer separato. L'ambiente del bagno è progettato per offrire grande comfort in poco spazio. Piacevolmente arredato in legno, dispone al suo interno di un wc con cassette esterne estraibile, un lavabo dalla forma ellittica servito da un miscelatore monocomando e utili vani di stivaggio, di cui quello superiore con alta a specchio. La cabina doccia rettangolare presenta un piano calpestabile ed è separabile grazie a porti pieghevoli. Per quanto riguarda i posti letto, questo veicolo ne offre fino a sei. Due posti letto per la notte sono a disposizione nella mansarda, che conta su di un letto di ampie dimensioni provvisto di rete ad oghe, due spot di lettura e una finestra laterale. Altri due posti letto sono ottenibili in dinette, grazie alla possibilità di abbassare il tavolo e un kit di cuscine aggiuntivi. La zona posteriore ospita poi un letto trasversale con rete ad oghe, che beneficia di un piano d'altezza variabile. Se nella posizione più bassa fornisce un'ottima accessibilità, in quella più alta la salita è vincolata all'uso di una scaletta. Sopra questo letto puoi trovare alcuni pensili per lo stivaggio. Il veicolo offre ulteriore spazio per lo stivaggio nel baule posteriore a volume variabile, a cui è possibile accedere sia dall'interno, tramite un'anta sotto al letto, sia dall'esterno, tramite due ampi sportelloni ribassati, che ti consentiranno di caricare anche attrezzature più ingombranti, come per esempio biciclette o uno scooter. Il Baron 26 è coibentato internamente anche per l'uso invernale. Il veicolo presenta di serie la stufatruma Combi 4, che garantisce un utilizzo ottimale anche ai climi più freddi. La tecnologia della struttura, completamente priva di legno, dalla stagione 2019 denominata Body Protection System per evidenziare il massimo della protezione tecnica e termica, domina tutta la produzione Ennag. La struttura è in vetro resina anche sulla parete interna, con coibentazione in polistireno estruso e telaio in resine bicomposite termoindurenti, per la massima impermeabilità, un isolamento termico di alto livello e una migliore resistenza meccanica anche alle torsioni. Lo stile interno dell'arredamento è piacevole, curato e conferisce all'abitacolo un'ambientazione rilassante e una tangibile sensazione di allargamento degli spazi. Il mobilio della gamma Baron adotta un'elegante e senza scura venature orizzontali, completata da ante dei pensili laccate. I nuovi Baron si presentano completamente ridefiniti anche per quanto riguarda l'esterno, dove sfoggiano una linea inedita contraddistinta anteriormente da una mansarda ridisegnata, uno specchio di coda che richiama da vicino il look dei fratelli maggiori T-Loft e dall'adozione generalizzata dalle finestre Scythe. Non mancano naturalmente diversi accenni al logo del produttore e una grafica che gioca con le tonalità del grigio e del bordeaux. Per visionare la scheda completa di questo veicolo e per conoscerne tutti gli accessori e tutte le caratteristiche tecniche, clicca sul link che trovi nel post di Facebook oppure nell'info box di questo video su YouTube. Se desideri sapere quali sono gli altri modelli disponibili sui nostri piazzali, visita il sito www.camperis.it oppure per vedere, toccare e provare in prima persona i nostri veicoli, vieni nelle nostre sedi camperis dove sarai assistito da specialisti sempre pronti a consigliarti la soluzione più adatta a te. Ti aspettiamo!